Si chiama Davide Edizia, lo spacciatore quarantenne sorpreso dalla polizia a Vittoria con in casa oltre 50 grammi di marijuana già pronta per essere immessa sul mercato e tutto il materiale occorrente al confezionamento della droga. Anche quest'ultima operazione antidroga portata a termine dalla polizia rientra nell'ambito delle operazioni tutte denominate alto impatto e finalizzate alla repressione di reati come appunto lo spaccio ma anche i fenomeni di prostituzione e reati predatori in genere. Fondamentale anche questa volta la messa in campo dei due cani della squadra cinofila App e Vite. Sono stati loro a rinvenire a casa di Dizia tutta la marijuana accuratamente nascosta. Oltre alla droga è stato trovato nascosto in cucina tutto il materiale utile alla pesatura e al confezionamento. Sempre in casa dell'arrestato sono state trovate diverse cartucce per pistola detenute illegalmente. Grazie. Grazie. Grazie.